Questo programma è presentato da Arena Mia Arredamenti Pavi System Sambao Brazilian Sushi Quirino Gabrielli Big Mat Per te assicurazioni Agenzia Top Unipol Sai Per te assicurazioni Buonasera da Pierpaolo Flamini Ritmo di Samba 29esima puntata Una puntata Da mesi Abbiamo pensato di raccontare In altro modo Perché la data del 14 aprile Era un po' cerchiata in rosso Da tutti i tifosi rosso-blu Come la data del quasi spareggio Per la promozione tra Samba e Campobasso Ma la grande frenata della Samba E per ultima la sconfitta All'Aquila di domenica scorsa Hanno di fatto azzerato Le possibilità di promozione diretta Della Samba Quindi sarà una partita Sicuramente molto attesa Sono stati già venduti Alle ore 18 2850 biglietti Che si sommano Ai 3758 abbonati Siamo soltanto a martedì Ci sarà quindi Probabilmente Un pubblico record Non solo per Sanmetto Ma per tutto il girone Probabilmente Per tutta la serie D Di quest'anno Immaginiamo Cosa sarebbe stata Questa partita Se la Samba Poteva ancora concorrere Al primo posto Io pronostico Che si sarebbero Superate Quelle 10.000 presenze Pronosticate da Massi Già da qualche mese Così non sarà Ne parleremo Con i nostri ospiti Abbiamo una puntata Ricchissima Veramente Di dettagli Di informazioni Quindi io vado Anche abbastanza veloce Ci collegheremo Anche con Campobasso Per avere le ultime novità Dal Molise Ricordo i vostri messaggi Al 392 944 1132 Al termine Poi potete lo spazio Per il settore giovanile Gli ospiti di questa puntata Roberto Raneri Giornista dell'Espresso Rosso Blu Grazie Roberto Per il tuo ritorno In studio E Marco Pulcini Ex giocatore Anche da Samba Allenatore Ma anche grande tifoso Della Samba Possiamo dirlo Adesso Andiamo subito Intanto a vedere I risultati Nella trentesima giornata Appunto La Samba sconfitta Andremo a vedere Abbiamo anche Preparato Un ricchissimo Dossier arbitrale Che se ne dica Quello che abbiamo visto All'Aquila Fa il paio Con tante altre sequenze Abbiamo presentato Tutte le lamentelle Della Samba Di quest'anno Vediamo i risultati Di questa Quest'ultima giornata Tatico Ascoli Vastro Giuranti 3 a 1 Campobasso Riccione 3 a 1 Chieti Termoli 3 a 0 Matese Notarisco 2 a 1 L'Aquila Samba 1 a 0 Monte Rotondo Sola 2 a 1 Roma City Avezzano 3 a 0 Tivoli Fano 2 a 2 Vigor Senigallia Forsemponese 1 a 1 Per una classifica Che vede il Campobasso In testa Con 4 punti di vantaggio Sull'Aquila 62 a 58 Samba Ormai Quali dei giochi 54 Matematicamente No Ma di fatto Esclusa La lotta Per il primo posto L'Aquila A più 4 Poi c'è la Vigor A 49 Roma City 48 Qui si conclude Diciamo La griglia Playoff Vedremo poi Durante la puntata Anche alcuni Regolamenti Playoff E quello anche Che è successo L'anno scorso Poi Avezzano Chieti Scorriamo Con la Tatico Ascoli A 40 Che sarà Per Stato La Samba Fra due settimane Che di fatto Ha un piede e mezzo Nella salvezza Poi Forsempronese Termoli Monterotondo Sora E nella Diciamo In fondo La classifica È l'Octa Veramente spietata A tre Fano Vastagirardi E Matese Per trovare Un posto Playout Che due Retrocederanno Andiamo a vedere Un attimo La vignetta Di Rossano Cocchieri Una vignetta Amara Ovviamente Dopo la sconvitta La Samba Si auto Esclude Con un Lauro Acciliato Dietro i 600 Ma ce ne erano 100 150 Anche in tribuna Perché ero Attorno a tantissimi Tifosi da Samba Che sono andati All'Aquila Grande Ovviamente Grande delusione E sul Lauro Poi Torneremo a parlare Se ne è parlato Già domenica Sulle scelte di Lauro Però adesso Andiamo col doppio passo Di Michele Natalini Poi torniamo con i nostri ospiti Per Fare il punto Su quello che è avvenuto E su quello che Che avverrà Alla fine Quando è davvero finita Stenti a crederci A un mese dal sipario Giusto prima Della partitissima Col campo basso Attesa a quattro mesi Sono lacrime amarissime La Samba È volata troppo bassa Ai piedi del Gran Sasso Per la sfida Senza appello E si è schiantata Perdendo Nella sostanza Un campionato Che a novembre Aveva impugno E a dicembre Ha compromesso In un amen Salvo poi Tornare a sperare Ma da metà febbraio Dal 1 a 1 Di Fossombrone Si è sgonfiata Terribilmente 10 punti Nelle ultime 8 partite Sono la fotografia Della regina Che ha abdicato Già prima della sosta E poi Non è più riuscita A riprendere Il campo basso Per dire Che l'addio Al sogno Della Samba Non è maturato Domenica All'Aquila Ma sai prima L'occasione Di rifarsi C'è stata E come Sono i tre pareggi Della capolista A marzo Era quello Il mese Della rimonta Invece La Samba Si è attorcigliata Su se stessa L'esonero Di Lauro L'interregno Alessandrini Una squadra Calata fisicamente E altri scarabocchi Errori Certo Magari Infiliamoci pure La sfilza Di topiche arbitrali In ultimo Però Se no Diventano un alibi Con le sparate Del presidente Massi Nel bene Nel male Il grande Artifice A incendiare gli animi A delegittimare L'allenatore Il primo tifoso Che parla Con la pancia E che parla Alla pancia Della gente E' tutto Molto in stile Samba Adesso però Prima di un eventuale Zeramento tecnico Con il consulente Fanisi E il DS De Angelis Sempre nel mirino Della piazza Non si può Buttare nel cestino Il buono Visto finora Una società Che pur con tutti I sé E i ma del mondo Facciamo una sintesi Serve strutturarsi Ha ripopolato Lo stadio E ha ridato All'ambiente avvelenato Per gli ultimi Trent'anni Di scempi La possibilità Di parlare Di calcio giocato E basta E allora Vale la pena Provare a regalarsi Un finale super Per il secondo posto I playoff Magari una domanda Di ripescaggio Per rifarsi Semplicemente Un altro giro Di giostra Ecco In fin dei conti Ci siamo divertiti Ci siamo divertiti Termina Michele Natalini È vero Ma con tanta amarezza Perché almeno La sfida del 14 Come dire Tutti avevano in mente Di giocarsela Poi si può vincere Si può perdere Però arrivare a quella sfida Ormai da mesi E poi invece Arrivare a una sfida Che è quasi Quasi un amichevole Ma parleremo anche poi Dei playoff Voglio cominciare Da Marco Pulcini Come giudichi Questo momento La Samba Come Ci sono tante cose Gli allenatori Tante scelte Cioè secondo te Quando si è perso Questo campionato Si è perso Secondo me Questo mese Dove il campo basso È una squadra forte Forte Ho visto qualche immagine Anche Anche domenica scorsa È una squadra molto forte Però è stato un mese Dove la prima della classe Ha fatto tre Quattro partite Tre punti Tre partite Tre punti E la Samba Siamo riuscita A guadagnare Siamo riuscita a guadagnare Anzi Ha perso Ha perso un punto Io Avevo già No avevo già detto Perché sono un profeta Però L'Aquila secondo me In questo momento È favorita Anche perché C'è una squadra forte E un allenatore Che è veramente preparata Roberto Laneri Quando si è perso Questo campionato Che a un certo punto Sembrava Ricordo che a novembre Avete pronosticato Una Samba Però poi Quando sei tornato Avevi detto Che insomma Non c'era Quando doveva Dove arrivare Alessandrini Secondo te il campionato Ormai era già perso Però quando Secondo te È stato Allora io sono d'accordo Con quanto ha detto Perfettamente Dei amici Di domenica scorsa La Samba Ha perso il campionato Nella partita Con l'atletico Ascoli in casa Quando ha pareggiato Due a due Sappiamo tutto Come Tutti come È avvenuto Insomma Quel pareggio Mi ricordo Che eravamo in sala stampa Io ti lo dissi Proprio Oggi abbiamo perso Il campionato Tu mi hai guardato Con una faccia Per dire Ma Che stai dicendo Non siamo neanche Alla fine Le giorni d'andata Così catastrofico Invece Io sono convinto Che in quella partita Si è dimostrata La fragilità Morale Della squadra Reduce da una partita A Campobasso Dove perse 1-0 Dove non aveva fatto Niente per vincere Non meritava La sconfitta Più giusto Era il pareggio Quel rigore Con la sportellata Su Alessandro Grida ancora vendetta Però In quella partita Io ebbi Proprio l'impressione Che la squadra Non aveva la forza Psicologica Per reggere Tutto il campionato In testa E' anche vero Che prima Come dicevi tu Preso dall'entusiasmo Pur compareggi In casa Con Forsempronese Fano Vittoria Era un po' Non netta Non facile Con lo United Riccione Comunque Quella squadra Era partita Stava andando bene Purtroppo Quella partita E' stata fatale Le prime ombre Sul lavoro Le prime critiche Si Poi naturalmente Giustamente C'era un gerone E mezzo Per recuperare Siamo arrivati Additura in testa Con 5 punti E quindi C'erano chiaramente Le possibilità Di vincere Il cambio con Alessandrini Il cambio con Alessandrini Non è stato Dal punto di vista Dei risultati Assolutamente Evidentemente Non ha portato Alcun beneficio Anche in quel caso Io dissi Alessandrini Ottimo allenatore Esperto Può prendere Una squadra Dalla prima giornata Di campionato Può anche Vincerlo Ma Che lui Che gli si chieda In 8 partite 8 vittorie E' praticamente Impossibile Infatti Ha vinto A Termoli E poi Ha perso E ha pareggiato Quindi Anche quel cambio Seppur necessario Perché dopo Il partito di Monte Rotondo Era inevitabile Insomma Cambiare L'Auro Ha dimostrato Che questa squadra Non Non poteva Più Vincere il campionato Ripeto Secondo me Una soluzione Molto Più Vantaggiosa Sarebbe stata Quella di affidare La squadra A un allenatore Giovane Un giovane Emergente Un giovane Non era facile Trovarla A quel punto O addirittura Paradossalmente Affidare la squadra Da Rigoni Con un prestanome Marco Non sono d'accordo Perché allenare La San Mettese Che deve vincere Il campionato E io all'inizio Di campionato Ho visto quasi Tutte le partite E poi dopo L'impegno calcistici Gli ultimi due mesi Ne ho viste poche All'inizio Di campionato La San Mettese Era una squadra Che giocava anche Mi dava l'impressione Che poteva vincere Il campionato Non facile Perché il campionato De Seredi È molto difficile Anche quest'anno È stato sempre Difficilissimo E lo sappiamo bene Però mi dava l'impressione Che poteva Una cosa che si poteva fare Con l'entusiasmo Che si era creato Però vedevo sempre Che la San Mettese L'Aquila L'Aquila Ha subito i 21 La miglior difesa 21 Ne ha fatti di meno C'era una differenza 37 Una differenza Redi di 15 Quindi Prima di passare a Massi Risentiamo un po' Massi Lauro Pezzola Brevemente Per tornare su Quell'argomento La partita di Domenica All'Aquila Lo sareste aspettato Questa formazione Giustamente Gli amici Si faceva notare Che 8 undicesimi Della squadra Erano diversi Rispetto a quelli Dell'andata Ma c'è il caso Su tutti i Barberini Che Ha giocato La squadra Era prima Poi praticamente escluso Tornato col Chieti La squadra Si gioca bene Come l'andata E poi all'Aquila Non c'era Lo sareste aspettato Col Chieti Io lo so Della partita Si La San Mettese Ha giocato bene Però Abbiamo pareggiato Ti rimporta Pericolosi Si Nello specchio Della porta Non sono stati fatti Si Girava palla Possesso palla Poi Alla fine È stata anche Fortunata Perché Se non fai il miracolo Il portiere Al 95esimo Secondo me L'ingresso di Fabbrini Nel secondo tempo Anche adesso Stiamo vedendo Secondo me Nel calcio Quello è fondamentale Se non salti l'uomo Però Fabbrini Lo fa meglio Nel finale Anche perché Qui si viene chiesto Di fare l'esterno Dal primo minuto E qui Questo è Un'azione Nell'azione Del gollo Del Chieti Fabbrini Rincorreva Il loro È un lavoro Che Fabbrini Non deve fare Insomma Comunque Adesso Non so Roberto Un commento Sulla parte Dell'Aquila Ti ha sorpreso Con la formazione O secondo te La formazione La formazione La fa l'allenatore Lui ha detto Che ha visto In settimana Quella squadra E naturalmente Ha impiegato Gli uomini migliori Secondo lui Certamente È mancata In tutto il campionato Una certa continuità Soprattutto nel giro Nel giro di ritorno Nel giro di andata Si accusava L'Avago Di far giocare Sempre i soliti Nel giro di ritorno Invece Ogni partita C'è stato Un cambiamento La confusione È il termine Atletica In difficoltà fisica Anche Pagliari Pagliari è calato Anche perché questi ragazzi Non hanno mai avuto il cambio Non hanno mai avuto il cambio 200 all'ora Sta pagando un pochino Però fisicamente Non li ho visti Proprio molto brillanti Adesso apriamo un attimo Il capitolo Della dichiarazione di Massi Li risentiamo Per ricordarci Massi e Lauro E sentiamo anche Pezzola Che chiede scusa ai tifosi Io il tutto è campionato Io ripeto E lo ripeto pure a voi Che il disegnatore Pizzi A Roma Mi disse Mi sogno ancora Di rigore di Campobasso Disegnatore degli arbitri Si dovrebbe risognare Tutto il campionato Della San Mettese Oramai che sei rassegnato Sugli arbitri Non puoi più parlare E questa settimana L'abbiamo vissuta Che dice Io ci credo Io ci credo Dopo aver visto Quella partita di Chiedi Ma oggi è che mi cambi Le carte in tavola E il giocatore Che ha fatto una grande partita Domenica Barberini E' seduto in banchina Fortuna Perché poteva andare in tribuna Era un altro avversario Oggi Quindi obiettivamente Sarò a parlare dopo A fine partita Le scelte le faccio Le scelte le faccio in base Alla settimana Come vedo i giocatori A chi ritengo Più pronto A chi ritengo Più giusto Non A simpatia O a quello Che magari ho visto La settimana prima Volevo iniziare Molto più forte E molto più Offensiva Quindi ho cercato Di giocare con l'over Il più davanti Mi sente un dovere Comunque anche da parte Di tutta la squadra Di fare un po' Di scuse Alla gente che è venuta Perché abbiamo Magari mancato Di atteggiamento Il campionato La matematica Ancora non mi sembra Che ci condanni Ovviamente C'è da essere realisti Restano ancora Quattro partite E queste quattro partite Vanno affrontate Nel modo giusto Sia per rispetto Del lavoro Che abbiamo fatto Noi tutto l'anno Sia per rispetto Della gente che ci segue E dei tifosi E della società Soprattutto Allora faccio commentare Subito A un giornalista Conoscitore di calcio Esperto come Roberto Ranieri Le parole di Massi Che nel merito Su Barberini E sugli arbitraggi Poi dopo li vedremo Mi sento di condividerle Perché Mentre facevo la cronaca Della partita Scrivevo Sorpresa Nella formazione Non mi sarei mai Aspettato l'esclusione Di Barberini Ma solo Anche per una questione Come dire Non dico di scaramanzia Ma non me le sarei mai aspettato E quindi Le parole di Massi Non tanto nel merito Massi è un presidente Che poi di fatto Stavolta ha sfiduciato Palesemente L'allenatore Non lo può mandare Fa bene Fa male Crea problemi In un ambiente già caldo Come in quel esamenetto O è meglio Il presidente può farlo Allora Diciamo che Massi È un presidente Che piace ai giornalisti Soprattutto Perché parla Parla Chiaro Parla semplice Parla in dialetto Dice quello che pensa Non ha mezze parole Non ha mezze misure E in un calcio E in un calcio Così Diciamo Vellutato Così Politicamente corretto Sì Dove praticamente Le parole Sembrano Che Sembra che vengano fuori Secondo me Dai corsi di Coverciano Perché praticamente Gli allenatori Dicono tutte le stesse cose E tutte scontate Un presidente Così focoso Come Come Massi Secondo me Ha sempre ragione Questa volta Forse è andato Un po' troppo Sopra le righe Perché Ha criticato La formazione Generalmente Il presidente Ha sempre criticato Magari Gli arbitri Oppure Anche i suoi stessi giuratori Questa volta È entrato Diciamo Mentalmente Nello spogliatorio Dicendo chiaramente Che la formazione Era sbagliata Non ha tutti i torti Ma non ha tutti i torti Neanche Lauro Perché è lui Che vede i giocatori Durante la settimana Rimane comunque Una regola Non scritta Nel calcio Che formazione Che vince Non si tocca Anche se Colchietti Non aveva vinto Un grande partita Per cui Magari Anche per dare Una certa continuità Si aspettava Qualche ritocco Sì Non Non tre giocatori Esatto Secondo te L'opinione Non tanto sulle parole Di Massi Ma sul fatto Che il presidente Ultimamente Si è intervenuto Spesso Post partita Una mia opinion Secondo me I presidenti Non dovrebbero andare A fare Le conferenze stampa Dopo la partita Magari Confrontarsi Con Il direttore sportivo Il direttore tecnico Con Fanesi Con Con De Angelis Che sono Secondo me Molto molto preparati Che hanno fatto Oggi Abbiamo usato delle immagini Oggi hanno parlato Con i tifosi Che erano al San Ma magari Si parla Nell'ufficio Presidente Allenatore Direttore sportivo E magari Si si può confrontare Dopo la partita Magari lunedì Martedì Con i tifosi A caldo E' chiaro Che il presidente Che tira fuori i soldi E fa una squadra E investe dei soldi Tanti Perché ha fatto Una squadra forte Giustamente E sta pagando tutti Che a San Benedetto Esatto Che a San Benedetto Non è scontato A fine partita Perdi il campionato Perché domenica La San Mettese Purtroppo Ha detto addio Alla possibilità Di vincere il campionato Possono uscire Fuori delle parole Che magari Il martedì Magari uno si pende Di averle dette Chiaramente Io sono d'accordo Con l'allenatore Che tutta la settimana Sto con la squadra Gli allenatori Possono sbagliare Come sbaglia l'arbitro Sbagliano tutti Però fare la formazione Dopo La partita E' facilissimo Sì Nessuno si aspettava Quella cosa I barberini A sorpresa Tutti Fosse per la scaramanzia Hai ritrovato Un gioco Con quel gioco Che Pietro Paolo Che Pietro Paolo Giocasse Me lo aspettavo Che poi Barberini Magari in settimana Lui ha visto Qualcosa Che Tumassini Non sta giocando Magari ha fatto Diversi gol Però Non lo so Certo Certo Riguardo Massi Abbiamo sentito Prima della Trasmissione In merito Alla questione Biglietti Perché Come sapete Sono stati dati Altri 150 Biglietti Tifosi Tifosi Del Capobasso Che ne avevano Già acquistati 1100 Quindi Il totale Sarà 1250 Ora La capienza Ufficiale Della curva Ospiti Di 2500 Irrotti Diciamo 1800 Per avere I cuscinetti Laterali Comunque Non Si arriverà A quella capienza Che per Capobasso Potrebbe essere Una domenica decisiva Sarebbe stata Sicuramente Terminata Per motivi legati Alla questione Parcheggi Ora Erano anni Forse dai tempi Pescara Del Napoli Che non arrivavano Più di 1000 Tifosi ospiti Qui a San Benedetto È Diciamo La prima volta Che si fa una limitazione Sulla base Del numero Dei parcheggi Questo però Secondo il Presidente Massi Limita ulteriormente Come dire Le capacità Attrattive Della Samba Perché Di fatto Si va a intaccare Anche una quota Di incasso Per la Samba Sono stati già veduti Tantissimi biglietti Si va verso 7-8 mila Spettatori Non so Si è già Quota 7 mila Sommando Abbonati E paganti Siamo a una cifra Simile Già Oggi Poi Qualche abbonato Sicuramente non ci sarà Va a limitare Anche il futuro Come dire Le ambizioni Di avere grandi tifoserie E incassi Tenendo conto Di una cosa Che I tifosi di Sambetto Andando in trasferta Quest'anno Sempre richiesto Ulteriori biglietti Come all'Aquila Sono arrivati 100 biglietti in più Se si Pensa anche Alle dirette Facebook La Samba L'ho offerta gratis Fuori Sono sempre pagati 8 euro I tifosi di Samba L'hanno sempre pagato Dappertutto E per una volta Che arrivava Un discreto incasso C'è una limitazione Legata ai parcheggi Questo che significa Che la capienza Comunque di Riviera Nonostante Riviera sia a norma Se entra anche Quest'ulteriore elemento Significa che Riviera non potrà Avere capienze Con ufficiali Non potrà arrivare A 13 mila spettatori Questo è una cosa Sulla quale Comunque Ragionare Sicuramente Presidente Massi Questa non l'ha presa Bene Solleva anche Come dire Il confronto Del Duco di Ascoli Comunque tifosi Ospiti Hanno un parcheggio Riservato C'è tutta una strada chiusa È vero che sono Sulla stretta curva Non ci sono Possibilità di contatto Però Presidente Massi Solleva Questo Ha sollevato Anche nelle sedi Appropriate Questo tipo Di problema Andiamo Un attimo Sul Un post Di Angiulli Che era il grande Ex Ha disputato una buona partita Il mister Cappellacci L'ha davvero Rimesso All'ustro Non aveva giocato Qui a Sabeto Qui c'è appunto Angiulli Che ha sottolineato Una giornata Piena di emozione Un passato Che rimarrà Per sempre Nel cuore Un futuro Diciamo Tutto da scrivere Angiulli Che sta giocando Un grandissimo Girone Di Di ritorno Dunque Fra poco Poi affronteremo Abbiamo anche un'intervista Oggi il sindaco Spazzafumo È stato qui ospite Ha parlato anche di Samba Lo sentiremo Fra poco Io direi Adesso Di mandare I gol Di questa ultima giornata Della trentesima giornata Ben 27 gol Poi torneremo Con il notiziale da Samba La carrellata Relativa A A tutte le Possibili Vicende Della Samba Dagli spareggi Ci collegheremo Con Con Capobasso E anche la carrellata Relativa A tutte le vicende Arbitrali Che fanno discutere Perché sono veramente tante E veramente clamorose Come quelle di L'Aquila Davvero inspiegabili Intanto mandiamo i gol E poi ci vediamo Fra poco Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.